Era sul punteggio esterno dell'abitazione, montato per raggiungere il condizionatore d'aria danneggiato, ma per casi da chiarire perde l'equilibrio e cade a terra. Un volo terribile di circa 4 metri, con il capo che sbatte con violenza sul terreno. L'operaio, 47enne Parmigiano, è incosciente e chi era con lui, il proprietario della ditta chiama subito i soccorsi sul posto questa mattina. Alle 10 e mezza, a Fosse di Rocca Bianca, nella bassa, in una casa privata, arrivano subito un'ambulanza e l'elicottero del 118. I miti, vista la gravità delle lesioni, intubano il ferito, poi una volta stabilizzato lo caricano sul mezzo e lo trasportano all'ospedale in maggiore. Immediato il trasferimento nel reparto di rinanimazione, la prognosi è riservata. Oltre ai sanitari, sul posto sono subito arrivati questa mattina anche i cammini di Rocca Bianca per fare appunto chiarezza sul grave infortunio sul lavoro agli addetti della medicina del lavoro dell'azienda USL.